A livello regionale la città di Teramo è il comune capoluogo di provincia con la Tari più bassa d'Abruzzo. Sono i risultati del report redatto dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva che ha reso nota un'anticipazione del dossier rifiuti 2023. A Teramo il costo medio della Tari nel 2023 di 290 euro, identico allo scorso anno, spesa invariata che si pone al di sotto della media abruzzese e nazionale. Diciamo che è una conferma, una conferma che dà continuità a dei dati di questi anni, dal momento in cui abbiamo preso in mano la TEAM, l'abbiamo resa più virtuosa sotto l'aspetto della gestione, l'abbiamo trasformata in house, una società pubblica che guarda l'interesse pubblico ma in merito soprattutto dei cittadini che hanno dato una risposta importante in termini di raccolta differenziata è un circuito virtuoso che nel corso dei prossimi anni troverà sviluppo grazie al potenziamento della tariffa puntuale, finanziamento PNRR e poi l'intervento, l'opera strategica del biodigestore che entrerà in un sistema di gestione dei rifiuti complesso dove Teramo svolgerà ancora più di quanto sta già facendo ora il ruolo centrale nell'ambito della provincia di Teramo. Dall'analisi di cittadinanza attiva emerge anche che la spesa media annuale per le famiglie tipo individuata è di 320 euro con un aumento del 2% rispetto al 2022. Come annunciato dal sindaco di Teramo d'Alberto ora l'obiettivo è quello di aumentare la qualità del servizio. La tariffa deve essere legata alla qualità del servizio, non dobbiamo dimenticarlo, il fatto che Teramo oggi sia al di sotto della media regionale, la prima in Abruzzo è abbondantemente al di sotto della media nazionale, è un aspetto virtuoso che non deve però accontentarci, ma andiamo avanti in questa direzione cercando ovviamente di migliorare sempre più il servizio.